bene passiamo adesso alla seconda parte con gli interventi del dottor urbani e del dottor questa seconda parte è dedicata proprio al alla narrazione dell'impegno dei medici di venezia dei primari dell'ospedale all'interno di due delle istituzioni più importanti più rappresentative del mondo dello studio della cultura dell'accademia veneziana e cominciamo dall'istituto veneto che ci ospita con questo intervento del dottor carlo urbani che il responsabile dell'archivio e garantisco che è un ottimo archivio quello dell'istituto grazie grazie dottor po come già ricordato dal professor gullino nell'estate del 1838 ferdinando primo d'austria rifondava l'istituto nazionale di scienze lettere ed arti dando così origine a due istituti separati quello lombardo con sede a milano e quello veneto con sede a venezia in palazzo ducale iniziativa sovrana giungeva al termine di un lungo periodo compreso tra la soppressione di tutte le accademie e società letterarie patentate attuata in francia nel clima della rivoluzione la nascita dell'istituto nazionale di scienze lettere voluto da napoleone per il regno d'italia e la faticosa sopravvivenza di questo durante l'età della restaurazione l'istituto napoleonico improntato sul modello francese si distingueva da questo tra l'altro per l'articolazione in cinque sezioni milano che ne era la sede principale bologna padova venezia e verona mentre per la lombardia la sede milanese non pare aver problemi ad imporsi sullo studio pavese per il veneto la necessità di promuovere tre città a centri di progresso scientifico mi sembra evidenzi la fatica dell'ex dominante a conservare un ruolo centrale e dall'altro la volontà di acquistare maggiore rilevanza da parte delle emergenti città ex suddite nel mutato quadro geopolitico ottocentesco si tratta di un risultato in ogni caso che offre due chiavi di lettura una presa d'atto da parte dell'autorità governativa della vitalità di tanta parte delle città del regno d'italia e allo stesso tempo il tentativo di rafforzare il controllo da parte del governo su intellettuali inseriti così in una struttura ufficiale e subalterna al potere politico membri e soci dell'istituto veneto sono scienziati che ricoprono in vari momenti ruoli pubblici sono sindaci assessori comunali e provinciali deputati senatori membri di giunte e commissioni e l'impegno politico non si traduce solo in un ruolo attivo ma anche in una concezione della professione a servizio della città dirà antonio berti commemorando giacinto namias il povero gondoliere lo scuro artigiano non erano quando infermi diversamente trattati dal nobile conte e dalla gentile damina se non avea la democrazia politica avea quella scientifica e così a leo vigildo paolo fario la salute del mendico e del tapino stava a cuore tanto quanto quella del dovizioso e del potente l'articolo 1 del regolamento organico dei due istituti lombardo e il veneto ne esplicitava le finalità promuovere quegli studi che hanno immediata e principale influenza sulla prosperità e sulla cultura scientifica generale delle scienze nelle province componenti il regno lombardo veneto quali fossero queste scienze era in seguito precisato l'agricoltura le arti e il commercio le lettere nel senso più lato della parola esplicitamente non le belle arti per le quali esisteva già un'apposita accademia ma tra le scienze non rientrava almeno esplicitamente la medicina o più genericamente le scienze mediche eppure a ben guardare la composizione del corpo accademico e le statistiche delle materie maggiormente dibattute si può riscontrare come il primato spetti proprio alla medicina l'articolazione in più sezioni e l'assenza dalla medicina dal computo delle scienze sono dunque a mio avviso una premessa necessaria per porre il tema nella giusta comprensione e cioè in quale modo si inserisca nel contesto di un'istituzione scientifica che ha il compito e l'ambizione di guardare al più largo orizzonte regionale il mondo della clinica veneziana e qui mi permetto un salto cronologico perché mi sembra che la questione sia bene riassunta pur con la lucidità ruvida che doveva lo doveva contraddistinguere in una memoria riservata inviata nel giugno del 43 dall'allora fascistissimo rettore dell'università di padova carlo anti al ministro dell'educazione nazionale carlo alberto bigini riferendo sul difficile momento attraversato dall'istituto anzi anti evidenziava che l'origine dei problemi era da individuare e qui cito nel gruppo veneziano che osteggia in ogni modo gli universitari padovani per un meschino e del tutto ingiustificato spirito di campanilismo e sottolineava ancora come nell'accademia regionale veneta è ovvio che preponderino i professori del massimo centro universitario delle tre venezie l'unico che comprenda delle facoltà scientifiche e sceglieva per chiarire il concetto proprio la medicina e cito ancora per questo gretto spirito antagonistico si è dovuto assistere all'ammissione nel corpo accademico dell'istituto di troppi primari ospedalieri mentre era tradizione degli universitari di escludere di norma dall'istituto salvo alcune gloriose eccezioni perfino i loro clinici considerati più artisti che scienziati e di una quantità di modesti ruditi locali per i quali sarebbe stato onore più che sufficiente l'appartenere ad un'accademia provinciale mi sembra di poter dire che il giudizio di anti è contraddetto dalla evidenza dei riscontri perché all'istituto veneto l'ingresso della medicina nel computo delle scienze è risultato ottenuto se non esclusivamente certo prevalentemente da clinici e in particolare da primari dell'ospedale civile di venezia basterebbe scorrere i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici di quei concorsi ai premi di industria che rappresentano il maggior impegno profuso dall'istituzione con continuità lungo la prima metà del diciannovesimo secolo caratterizzato da una concezione enciclopedica della scienza per riscontrare come soci e membri dell'ospedale civile siano tra i più presenti chiamati a giudicare sulle innovazioni tecnologiche e non solo come ci si potrebbe aspettare di tipo medico ad esempio la pinzetta a catena per l'estrazione di corpi flessibili dalla vescica dell'uomo progettata da vincenzo bianchetti o il modello di vasca per il bagno dei maniaci con comodo dell'altalena di padre benedetto nappi medico e frate dell'ordine dei frate bene fratelli in servizio a san servolo oppure ancora il bendaggio per fermare gli sbadigli negli accessi febbrili escogitato da lucio emilio trovati ma qualsiasi tipo di ritrovato innovativo riguardante le scienze e le arti dalla camicia ricamata di cucitura invisibile della sarta veneziana maria violin al nuovo metodo per ottenere il solfato di chinina del chimico pordenonese antonio galvani dai lavori di conchiglia di giuseppe casivano di venezia al torchio per paste mangerecce nuova invenzione di giovanni nicolini tutti tutte innovazioni giudicate da medici dell'ospedale civile di venezia ma pure a scorrere l'indice degli autori delle memorie pubblicate dall'istituto veneto con regolarità a partire dal 1843 ci si accorge che i primi saggi di contenuto medico sono tutti opera di primari dell'ospedale civile le osservazioni e riflessioni sul cordone umbilicale del feto umano di francesco cortese che prima di diventare titolare della cattedra di anatomia e chirurgia a padova fu chirurgo all'ospedale civile dal 27 al 36 attivo nella rivoluzione di manin del 48 passato poi in servizio all'esercito piemontese arriva a ricoprire il ruolo di medico capo dell'esercito e viene congedato con il grado di generale era entrato all'istituto nel 42 e nel 43 era diventato membro effettivo espulso poi dagli austriaci riammesso nel 1868 oppure le osservazioni e considerazioni anatomiche patologiche e cliniche intorno le condizioni patologiche fondamentali delle singole malattie chirurgiche di michelangelo asson primo chirurgo dell'ospedale civile durante la rivoluzione del 48 chirurgo capo dell'ospedale militare di santa chiara entrato all'istituto nel 44 e diventato effettivo nel 1864 o la prova medico legale del beneficio di pietro zigliotto altro chirurgo passato da rovigo a venezia per dirigere prima l'ospedale militare poi passato all'incurabile convertite infine nel 1856 divenuto primario all'ospedale civile ancora più notevole è il contributo dato dai clinici ospedalieri veneziani al funzionamento dell'istituto stesso se non fosse morto nel 1836 vale a dire due anni prima della rifondazione della rifondazione ferdinandea c'è da immaginare che un posto di rilievo lo avrebbe ricoperto francesco aglietti bresciano di nascita ma veneziano di adozione erudito eclettico capace di discettare di geologia e di pittura dalle giovanili passioni civili è relativamente noto un suo discorso in dialetto veneziano a murano il giorno dell'erezione dell'albero della libertà il 18 giugno del 1797 e poi rapidamente rientrato nei ranghi della classe dirigente pronta di integrarsi nei regimi alternativamente succedutisi a venezia questi aglietti al quale si deve la rinascita dell'anatomia pratica a venezia celebre il suo discorso tenuto al teatro anatomico di san giacomo recentemente tornato agli onori della cronaca contribuì a mantenere vitale un'istituzione come l'istituto nazionale che stentava a rimanere attiva ricoprendone la carica di segretario della sezione di venezia in stretto contatto con il suo omologo e il medico anche lui padovano luigi valeriano brera segretario come aglietti ma questa volta dell'istituto veneto fu giacinto anamias già ricordato dal professor gullino direttore dell'ospedale di san daniele del friuli docente di chimica nella scuola pratica da lui voluta nel 1863 nell'ospedale civile di venezia per l'aggiornamento continuo del personale medico nel tracciarne il profilo biografico antonio berti si ricorda come anamias l'istituto debba riconoscere il merito dell'accrescimento delle raccolte naturali e tecnologiche della biblioteca con gli scambi dei periodici scientifici la realizzazione di un acquario la nomina di un conservatore l'organizzazione delle esposizioni permanente industriale l'istituzione di lezioni domenicali impartite gentilmente sono parole di berti dagli stessi membri dell'istituto agli atti e alle memorie edite dall'istituto veneto anamias consegnava gran parte dei propri studi soprattutto quelli sui vantaggi derivanti dall'applicazione dell'elettricità alla medicina da lui sperimentati all'ospedale civile e di cui si potevano avvalere pazienti come quella molto avvenente signora presa ben si intende dallo spavento di perdere le naturali attrattive sono parole di namias che colpita da paresi facciale dal friuli venne a venezia in cerca di rimedi e alla quale il dottor namias aveva promesso la guarigione in quattro settimane ma gliene furono sufficienti tre per fare ritorno al proprio paese chiamatavi da domestiche urgenze precisa namias sicura di aver riguadagnata la preziosissima fra le doti della vita femminile excusazio non petita namias rassicurava che il suo intervento non aveva altri fondamenti che la fiducia nella scienza non crediate che a promettere la guarigione senza riserva più mi trascinasse il cuore che l'intelletto no di certo conosciuta l'integrità dei centri nervi si può con la elettricità combattere queste locali paralisie con tanta fiducia con quanta nelle febbre intermittenti prescriversi la corteccia peruviana è proprio giacinto namias che rivela la necessità nel 1854 di riconoscere alle scienze mediche la stessa dignità scientifica attribuita alle altre discipline lo fa nella dunanza solenne del 1856 durante la quale a lui spetta il compito di tenere il tradizionale discorso ufficiale e al quale lui assegna il titolo sulla parte che spetta alla medicina negli studi e negli uffici dell'istituto il campo della medicina per namias non è come grettamente avvisa alcuni il solo magistero di combattere i morbi ma quel più vasto e sublime che l'uomo protegge fin nell'alvo materno e nelle fragili età durante la crescimento e la decadenza del corpo dal collegamento di scienze fra loro diverse come la geologia la storia naturale l'agronomia deriva sempre per il namias la statistica umana che col nome di demografia raccoglie le naturali leggi delle popolazioni e per la medicina il compito di trarre illazioni di pratica utilità condivide con gecinton amias l'idea che l'istituto veneto possa essere l'ambiente adatto per dar seguito all'intuizione che la statistica applicata alla medicina possa consegnare alla pubblica amministrazione strumenti formidabili per debellare e soprattutto prevenire infezioni ed epidemie anche il già ricordato antonio berti direttore del nosocomio femminile di venezia e in seguito primario dell'ospedale civile anche lui senatore del regno relatore in senato del progetto nicotera per il codice sanitario in occasione dell'adunanza tenutasi a palazzo ducale nel novembre del 58 berti rappresentava il primo di una serie di studi dal titolo sul clima di venezia strudi tratti dalle osservazioni meteorologiche del ventennio 36 55 dando così inizio alle pubblicazioni dei dati meteorologici rilevati dall'osservatorio annesso al seminario patriarcale che sarebbe diventata negli anni successivi prima con la relazione meteorologica medica pubblicata a partire dal 61 dallo stesso berti insieme a con una mia quindi il bollettino meteorologico di venezia ma è come già ha ricordato ampiamente professor bullino con angelo minic e l'istituto veneto e l'ospedale civile hanno il punto di massima convergenza domani altri più qualificati esporranno le benemerenze scientifiche di minic qui sarà sufficiente ricordare che nato nel 17 a 34 anni già medico affermato viene eletto socio corrispondente dell'imperial regio istituto veneto del quale diventerà membro effettivo nel 69 vicepresidente dall'84 all'86 carica che prelude alla presidenza da lui tenuta dall'86 all'88 e ancora vicepresidente dal 92 al 93 premessa di una sua seconda presidenza se la morte non l'avesse colpito il 28 ottobre del 1893 membro del consiglio della giunta provinciale di venezia di cui diventa vicepresidente tra le molte altre cariche entra a far parte della commissione sanitaria permanente per venezia il veneto e di quella per il risanamento di venezia nel gennaio dell'89 vittorio manuele secondo lo nomina senatore del regno in base alla diciottesima categoria dell'articolo 33 dello statuto albertino che consentiva al sovrano di scegliere i senatori tra i membri della regia accademia delle scienze dopo sette anni di nomina la figura del minic è fondamentale per la storia dell'istituto veneto nominato da quegli erede residuario delle proprie sostanze con il testamento del 25 settembre 1889 con l'accettazione di questo l'istituto che può così affrancarsi dalle sovvenzioni ministeriali assume degli obblighi tra i quali l'impegno a trarre dalle rendite della sostanza una medaglia di presenza del valore di 40 lire per ogni seduta per ognuno dei membri effettivi non pensionati dell'istituto cioè non stipendiati dal ministero 30 mila lire e tutti i libri con l'obbligo di continuare ad essere associato alle opere in corso di stampa l'acquisto di nuovi libri per la biblioteca 40 mila lire perché con gli interessi di questo capitale venga istituito un premio triennale sopra argomento di scienze mediche premio precisa minic da conferire solo a italiani e questa sera poi ci sarà la prima conferimento del premio all'ultimo in una serie sostanzialmente ininterrotta tranne nei periodi delle due guerre mondiali uomo di scienza ed impegno civile che concepisce la scienza a servizio della comunità dispone che 20 mila lire della sua sostanza siano date al comune di venezia mia carissima patria per istituire dei premi annui da assegnarsi agli allievi delle scuole serali e festive di venezia che si saranno distinti per diligenza buona condotta e profitto e come ricordato dal professor bullino altre 30 mila lire perché in città siano posizionati gli orologi elettrici per comodo ed utilità dei cittadini all'ospedale civile invece sono consegnati gli strumenti chirurgici e 30 mila lire perché venga istituita una scuola pratica di medicina e chirurgia della quale fissa le norme principali come gli orari e le modalità di insegnamento e proprio dalla scuola riattivata presso l'ospedale civile di venezia riprende vigore la tradizione scientifica che porta all'ingresso nell'istituto veneto di primari clinici veneziani su tutti davide giordano chirurgo presso l'ospedale di torrepellice fino al 1891 poi assistente di clinica chirurgica all'università di bologna dove insegna medicina operatoria quindi dal 1894 primaria all'ospedale civile di venezia di cui poi è anche sindaco dal 1920 al 24 anno in cui viene nominato senatore senatore del regno carica dalla quale poi viene dichiarato decaduto dall'alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo perché riconosciuto colpevole di aver contribuito a mantenere il regime fascista e rendere possibile la guerra anche dopo il 3 gennaio 1925 facendo funzionare il senato e facendo approvare le leggi che gradualmente distrussero le libertà italiane achille breda nel 1919 nel perorarne la promozione a membro effettivo ricordava come a giordano non mancasse il titolo di abile insegnante riaperta infatti sono parole di breda nel 1896 la scuola pratica di medicina e chirurgia presso l'ospedale civile scuola istituita per disposizione testamentaria del tanto benemerito nostro angelo minic il giordano vi tenne prima e dopo la guerra lezioni che furono sempre molto frequentate ed apprezzate al pari di quelle che durante l'imperversare della guerra tenne a immediato vantaggio di numerosissimi medici militari secondo a giordano per anzianità accademica fabio vitani dal 1901 primario presso l'ospedale civile dove organizza importanti congressi internazionali sulla talassoterapia e la tubercolosi e dal 1913 presidente della società veneziana contro la tubercolosi dal 1937 al 1948 amministratore dell'istituto veneto è il giordano che ne perora la causa per essere perché sia nominato socio dicendo di lui che frequentate ed apprezzate solo nel nostro ospedale le lezioni cliniche professate dal vitali alla scuola minici ed ascoltate le comunicazioni all'accademia medica dell'ospedale alla quale diede nuovo impulso di vita ben più severo tuttavia il giudizio su vitali da parte del rettore di padova anti è proprio su di lui infatti che si rivolgevano le critiche più dure di questi a proposito della missione all'istituto di primari ospedalieri figura scientifica di nessun rilievo vecchio ed invecchiato dice anti che in questi ultimi anni come amministratore dell'istituto non ha dimostrato alcuna qualità di rilievo nella primavera del 38 per pochi voti non riuscirà ad essere promosso membro effettivo un terzo primario dell'ospedale civile giuseppe iona già collaboratore di luigi paganuzzi subentra questi nella direzione del reparto di medicina seconda dell'ospedale civile ottenendo anche la libera docenza all'università di padova è fabio vitali che lo candida a socio dell'istituto veneto dicendo di lui che la sua attività si è svolta pure sul campo didattico e sul campo sociale fu il primo ad agitare in venezia la questione ospedaliera ed è sempre operativa all'educazione degli allievi suoi un patriota entusiasta di incrollabile fede che da tutta la sua opera infaticabile di cittadino alla patria vero esempio di attività e di altissimo valore civile sono le parole del testo dell'encomio assegnatoli dal ministero della guerra per l'opera prestata nell'ospedale della marina militare la mancata promozione a membro effettivo nel volgere di pochi mesi si tramutò come è noto in espulsione in base alla legislazione raziale fascista le leggi razziali la loro applicazione e la successiva loro elaborazione nell'italia repubblicana rappresentano una delle pagine più complesse della vita italiana e non solo accademica ovviamente senza addentrarci qui in altre considerazioni però è da registrare che nel 48 1948 in un mutato contesto politico nel presentare il manuale di stomatologia opera di umberto saraval davide giordano ricordi proprio come le benemerenze del saraval non lo posero al riparo dalle nefante persecuzioni razziali per le quali scomparve in germania un suo fratello farmacista egli riuscì a tenersi nascosto ed in tali condizioni precluse a lui le biblioteche ebbe la forza di compilare il suo manuale riuscito opera magistrale giordano cercherà in seguito per un paio di volte di promuovere la candidatura di umberto saraval a socio corrispondente ma sempre senza successo altri primari si sono succeduti nell'elenco dei soci dell'istituto veneto ma spetta a carlo dal co il merito di aver contribuito a riportare al centro dell'attività dell'istituto veneto le scienze mediche nel nome di angelo minic auspicato dal voto dell'assemblea dei soci dell'istituto nel gennaio dell'ottantaquattro dal 1985 a carlo dal co fu affudata l'organizzazione del nuovo corso minic ideale continuità della scuola pratica istituita per volontà testamentaria che si protrasse per poco meno di un decennio affrontando questioni che andavano dall'ematologia all'endocrinologia dall'oncologia all'immunologia lo stesso carlo dal co nel giugno dell'ottantasette tenne anche anche lui come namias il discorso ufficiale in occasione dell'adunanza solenne di chiusura dell'anno accademico per il quale scelse il tema medicina oggi scienza o d'arte rispondendo in un certo senso idealmente a giacinto namias e a carlo anti dal co esprimeva la preoccupazione che l'enorme apporto della ricerca strumentale sono parole di dal co con la sua esattezza porti a credere all'infallibilità del metodo di ricerca spesso con un uso non corretto del calcolo statistico che ha fatto ritenere infallibile queste metodiche è necessaria anche secondo dal co la lettura del malato cioè la capacità di capirne i sintomi soggettivi ed obiettivi e questa capacità è legata all'abilità tecnica operativa del medico basata sulla sua cultura sulla sua esperienza sulla sua sensibilità la conclusione dunque cui giunge il clinico carlo dal co è che la medicina è scienza ed arte come voleva ippocrate grazie grazie dottor urbani poi le domande le faremo alla fine adesso sentiamo cosa è accaduto all'ateneo veneto con il dottor gottardi stiamo cercando di scaricare una cosa ecco intanto che cerco di scaricare buonasera a tutti intanto cerco di scaricare il simbolo dell'ateneo che mi serve per iniziare il discorso vorrei ricordare che l'ateneo veneto nasce con lo stesso decreto con il quale che ha ricordato dottor urbani con cui viene istituito all'istituto veneto il 25 dicembre del 1810 Napoleone viene fatto membro dell'istituto nazionale l'istituto nazionale di france e nel 25 dicembre di un anno di un anno precedente ecco benissimo grazie se mi può sì se potremmo un'immagine perché qui non c'è c'è questo ma è piccolino magari mettiamo un'immagine sì grazie così perfetto immagine del logo per cui nel 1810 eccolo qui perfetto grazie benissimo quindi per ricordare questa sua ascrizione tra gli immortali di Francia nel 25 dicembre del 1810 Napoleone decide di rifondare anche gli istituti culturali nel regno d'Italia e con questa duplice divisione tra l'istituto nazionale che è unico anche se più sedi che ricorda l'istituto francese e gli atenei locali che ricordano invece l'accademia francese sostanzialmente e che ognuno di essi doveva in qualche modo accorpare le più accademie precedenti per farla breve quando con la restaurazione nel 1815 questo sistema viene spazzato via in parte dal ritorno appunto all'ordine precedente lì dove esisteva una sola accademia cito l'accademia di agricoltura di Verona si ritorna al nome originario lì dove come a Venezia è una fusione rimane in piedi l'ateneo così come si chiama l'ateneo veneto appunto e su questo io faccio un breve escurso storico perché i medici invece all'ateneo furono protagonisti da subito rispetto evidentemente all'istituto veneto e invece dedicherò la seconda parte del mio intervento a due medici in particolare che sono stati presidenti e che sono già stati citati da Carlo Urbani dunque nonostante la prevalenza dell'intellettuale di stampo umanistico nel consenso accademico istituito appunto da Napoleone in realtà nella prima fase di attività dell'ateneo veneto i medici assunsero un ruolo primario che testimonia il loro protagonismo politico culturale che avviene tra fine 7 e primo 800 e parallela a un'istanza di riqualificazione civile della medicina che l'Accademia Veneta di Medicina citata già più volte questa sera e che era sorta nel 1789 quindi un anno anche epocale da questo punto di vista e che era stata sciolta dagli austriaci perché era si diceva troppo vicina alle istanze democratiche ma era risorta nel 1807 quindi alle origini dell'ateneo veneto c'è la fusione di tre accademie due letterarie l'Accademia Veneta di Belle Lettere e l'Accademia appunto un'altra accademia letteraria e la scuola di medicina condotta da Francesco Aglietti anche questo un nome che abbiamo già sentito questa volta Aglietti era stato un medico enciclopedista razionalista ricordato erroneamente come Giacobino in realtà semplicemente un moderato uno che aveva capito che la Repubblica aveva finito il suo corso e ancora oggi a 220 anni da quel momento ancora molti si ostinano a pensare che non avesse dovuto cadere a quella volta e primo segretario per le scienze dell'ateneo sotto la presidenza di Leopoldo Cicognara Leopoldo Cicognara uomo dell'establishment napoleonico amico di Canova è il primo presidente ma se l'Accademia Veneta di Medicina era stata poi travasata era confluita nell'ateneo con gran parte del suo vertice erano entrati anche in quei primi anni quindi negli italiani 10 e negli anni 20 molti medici, scienziati, chirurghi che mostravano come l'ateneo aveva costituito aveva portato una sorta di conferma del bacino sociale urbano più ampio c'era travasata una sorta di elite sociale e scientifica di anatomopatologi, di chirurghi, medici, teorici e pratici e piano piano aveva dato spazio a una definitiva laicizzazione ma anche promozione sociale e professionale della chirurgia più avanti negli anni 40 furono i congressi degli scienziati a dare una nuova veste più forte, più marcata anche dal punto di vista sociale ai medici i congressi degli scienziati si erano svolti tra il 40 e il 47 ed erano uno dei pochi allargamenti delle maglie che la censura austriaca ma degli altri paesi aveva garantito nel corso degli anni 40 ce ne erano stati diversi, da Napoli a Pisa, due in Veneto, uno a Padova e nel 47 proprio a Venezia perché evidentemente si pensava che l'intellettuale di stampo umanistico fosse sicuramente di opposizione viceversa il medico, l'ingegnere, lo scienziato fossero in qualche modo più legati a una diversa struttura politica forse perché si dedicavano più alla chirurgia o alla costruzione di ponti invece è proprio da questi congressi che nasce una fortissima opposizione quando a Venezia si crea, si svolge il congresso nel settembre del 47 c'è una tale effervescenza che difficilmente non si può legare a quello che accade 4-5 mesi dopo le origini in Palazzo Ducale nella discussione dei temi scientifici che venivano sempre riportati poi ai temi politici a riprova che forse è arte ma sicuramente la scienza è anche politica quindi sul piano più generale l'evoluzione della presenza nell'ateneo di medici ma come di avvocati e di ingegneri riflette alcuni importanti momenti di accelerazione e di freno del più largo processo di professionalizzazione della medicina e questo lo dobbiamo capire perché anche la monarchia asburgica aveva un'attenzione che magari era maggiore nei confronti degli avvocati ma di certo nel caso dei medici aveva contribuito a disciplinare la professione come dicevo prima una maggior medicalizzazione della società sono lenti processi professionali che vanno poi procedendo quindi le vicende collettive dei medici così come degli altri professionisti nell'ateneo sembrano confermare come anche a Venezia nel corso del XIX secolo una nuova borghesia professionale si fosse imposta all'interno di una struttura sociale che però comunque restò a lungo incardinata sia legata alla terra, alla possidenza, alla proprietà terriera ma anche evidentemente al servizio delle nuove istituzioni della monarchia su questo rimando per una più ampia disamina a un saggio che Filippo Maria Paradini ha pubblicato proprio nell'ultimo numero della rivista dell'Ateneo Veneto dedicato all'evoluzione delle professioni tra notabilato e professionismo certamente c'è all'interno dell'Ateneo come dell'istituto e molti soci sono comuni alcuni li abbiamo citati, altri vi li cito da Aglietti a Namias, da Gaetano Alfonso Ruggeri a Paolo Zanini rappresentano proprio la continuità di quell'idea di medicina così razionale così illuminista che era emersa anche a Venezia alla fine del Settecento quindi la consacrazione al tempo stesso dello scienziato e del professionista è proprio segnata in queste tappe successive vi ho richiamato i congressi degli scienziati che non a caso dopo il 48 non avranno più luogo nel Lombardo Veneto e nessuna parte d'Italia ma anche viene rilanciato così quella concezione di pubblica utilità dell'Ateneo che lo stesso Aglietti aveva, d'intesa con Cicognara ribadito in una delle prime relazioni alla nascita dell'Ateneo Veneto e questa pubblica utilità si sostituisce al posto dell'Università di Padova per molto tempo anche a Venezia dove certo c'era un dualismo, certo nell'Istituto c'era e forse c'è un dualismo tra Venezia e Padova o quantomeno ci sono due anime ma certamente a Venezia veniva meno questa discussione accademica e quindi da questo punto di vista l'elenco di questioni scientifiche affrontate nel corso dell'Ottocento dai soci dell'Ateneo, medici, chirurghi ma anche farmacisti riflette ovviamente le fasi di avanzamento e di ritardo delle singole discipline che caratterizzarono questa fase transitoria e per chiudere questa prima parte come dire storica vorrei ricordare come da sempre nel simbolo che qui vedete alle mie spalle che il simbolo nasce attorno agli primi anni venti viene rielaborato ci sono dei simboli che richiamano la medicina in particolare vedete qui la centralità della colonna del semidio della medicina Esculapio o Asclepio e di sua figlia Igea Salus poi c'è la lampada che ricorda la luce della ragione la civetta o la nottola di Minerva per dirla allegheliana è la filosofia il mondo sulla quale sta è il leone marciano che in qualche modo veglia e questo è il simbolo che con qualche variante grafica dall'inizio dell'Ateneo è giunto sino ai giorni nostri quindi come vedete in qualche modo questa evoluzione delle professioni attraverso la presenza dei medici arriva sino all'inizio del Novecento e io ho scelto due medici totalmente opposti per impostazione ideale anche per tipo di professione di tipo di specializzazione ma entrambi presidenti perché in qualche modo caratterizzano il ruolo civile del medico e del socio dell'Ateneo Davide Giordano e Giuseppe Iona Davide Giordano è sono allora uno è un chirurgo l'altro è è un clinico un primario di medicina generale sono anche in una posizione diversa completamente diversa dal punto di vista religioso Davide Giordano è un valdese nasce a Courmayer da un medico e da un maestro nelle scuole elementari che era andato a insegnare a Courmayer sono di Torre Pellice cioè sono delle vallate valdesi più storiche e lui Giordano diventato medico prenderà la condotta nuovamente a Torre Pellice poi vince un concorso a Venezia nel 94 una parte della carriera è già stata ricordata quindi vado più veloce vince nel 94 e per 40 anni fino al 34 farà il chirurgo Giuseppe Iona è un ebreo di lui è rimasta più traccia come vedremo nasce a Venezia nel 66 quindi ha due anni in meno di Giordano frequenta il liceo Foscarini è tra l'altro allievo di un grande matematico come Aureliano Fai Fofer allievo di Giusto Bellavitis per citare un altro socio dell'istituto famoso e si laurea in medicina a Padova e diventa medico e poi primario delle ospedali civili nel 96 e ci resta fino al 36 anche lui 40 anni di attività 40 anni di attività noti per l'umanità e la grande competenza come primario di anatomia patologica e poi di medicina interna e anche direttore del gabinetto batteriologico dell'ospedale tanto da portare il soprannome di medico dei poveri come ricordò poi il suo assistente Mario Battain nella commemorazione che l'Ateneo promosse all'indomani della liberazione nel 46 appunto in qualche modo sono gesti che come vedremo si susseguono anche in qualche modo a lavare l'onta che poi era accaduta nel 38 uomo che aveva militato anche come medico negli ospedali da campo così come era stato anche anche Giordano il quale poi diventa primario di seconda chirurgia e poi a un certo punto di tutte e due le divisioni chirurgiche ospedaliere ma la loro vita si incrocia non solo perché diventano soci dell'Ateneo anche qui andando a guardare l'anno due anni dopo che è diventato primario Giordano cinque anni dopo che è diventato primario Iona quindi tutti e due abbastanza velocemente ma perché entrambi pur essendo molto diversi anche politicamente come vedremo si susseguono nella carica di presidente perché sono molto diversi perché perché Giordano diventa fascista ed è un fascista militante non è un fascista per caso nazionalista fonda con Pietro Orsi e Giovanni Giuriatti fonda alleanza nazionale si candida con alleanza nazionale nel 21 vincono le elezioni sapete che Venezia la nomea aveva quantomeno non so ora ma la nomea deve essere un laboratorio politico prima giunta del centro-sinistra e certo anche prima giunta clerico-fascista nel 21 quando appunto il più votato Giordano diventerà poi sindaco e in quel momento è presidente dell'Ateneo cercherà di restare per qualche mese e poi passerà la palla passerà la campanella proprio a Iona con il quale aveva fondato insieme la società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali c'era un profondo rispetto tra entrambi quando Giordano finirà di fare il sindaco ultimo sindaco eletto perché poi si passa a conorsi al podestà di nomina prefettizia e governativa ritornerà a fare il presidente dell'Ateneo per altri quattro anni e per un terzo mandato sarà presidente unico caso assieme a quello di Leonardo Manin per citare un altro nome caro all'istituto è il secondo Davide Giordano è il secondo presidente per longevità nessuno ha fatto il presidente due volte nel corso del novecento e neanche nel duemila non mi ricandiderò quindi non ho nessuna attenzione tuttavia mentre Manin lo fa per tre mandati pieni quindi per dodici anni Giordano lo fa per dieci verrà richiamato ormai anziano nel 38 per gestire la scottante tragica pagina delle espulsioni dopo le leggi razziali e resterà fino al 42 e dicevo che c'è un assieme d'altra parte invece d'altra parte Iona invece si candida con Silvio Trentin quindi alle stesse elezioni comunali non prende moltissimi voti non viene eletto ma sta con la democrazia sociale di Trentin sta da tutta altra parte e questo è un esempio evidente di quello che come dire all'interno di una stessa struttura associativa culturale e anche accademica può essere messo in ballo dopodiché Giordano avrà una sua vita diventerà senatore avrà una sua vita anche indipendente finirà nel 34 si dedicherà allo studio della medicina muore nel 54 e viene ricordato tra i tanti da due dei suoi allievi il primo che poi diventa il suo successore Enrico Polichetti sembra che ne parli come di una vittima di quello che accade nel 45 e 46 ma se io vi cito siamo nel 54 ora è vero che De Gasperi è già stato estromesso è vero che c'è scelba ed è vero che c'è stata la legge truffa ma i toni sembrano più quelli del ventennio che di quelli della nuova Italia allora la butto un po' in ridere perché i tempi sono passati e sembra più un personaggio di una famosa trasmissione anche televisiva di Renzo Arbore sentirsi dire che nel 54 questo grande chirurgo che ha fatto 40.000 la operazione circa che ha una bibliografia sterminata andate a cercarla anche semplicemente in internet nel polo di Sebina e vedete quante ne ha deve essere ricordato in questo modo il 6 luglio del 27 riteriatosi il professor Velo dirigeva allora le due divisioni chirurgiciche ospedaliere volendo solennizzare il quarantesimo anniversario di laurea con una grande seduta operatoria si presenta alle 7 del mattino li stava aiutare a San Leonardo anche qui nella geografia del personaggio si racconta che facessi in 7 minuti la strada tra San Leonardo e l'ospedale arrivando alle 7 in reparto era tutto festante perché dalle 7 del mattino alle 10 e tre quarti aveva potuto eseguire brillantemente 15 operazioni di alta chirurgia toltasi la vestaglia da camera operatoria e i famosi mezzi stivali di filato si vestì in bocca alla porta e volò alla cafoscari puntualissimo alle 11 dove era atteso per una seduta quale commissario era un suo record di velocità di resistenza e di puntualità credo che l'istituto Luce parlasse in modi più sobri questo nel 54 quindi a 9 anni dalla fine ecco e questo il professor Polichetti peraltro dice che Giordano ebbe molte delusioni dopo il 45 gli venne tolta la carica di senatore peraltro molti altri non solo quelli che erano stati vicini al fascismo dato che siamo passati alla Repubblica nel 46 così di quanto passano e che cosa più grave fu oggetto di alcune intimidazioni gli spararono dei compiti intimidatori sulla porta di casa e dopo viene riabilitato nel 46 divente presidente della società di storia della medicina e altri resta all'interno degli istituti non viene espulso né dall'Ateneo né dall'istituto mi confermi perché gli viene riconosciuta una cosa che è fondamentale peraltro che aveva difeso queste istituzioni nei confronti del fascismo soprattutto l'Ateneo Veneto era diventato la sede dell'istituto di cultura fascista preseduto da un celebre avvocato l'avvocato Brass che a voi ricorda un regista perché era suo padre ovviamente e l'avvocato Brass era un altro che era proprio uno squadrista e voleva fare occupare mano militare l'Ateneo e alla commissione formata nel 1945 Giordano spiega che lui l'aveva difeso e che anzi aveva impedito che i due programmi coincidessero mantenendo l'autonomia dell'istituto questa fu una delle cose che gli permise di rimanere a differenza di Brass che venne espulso e poi negli anni 60 riabilitato ritornò a far parte dell'Ateneo diversa è l'idea culturale che ha invece Iona però sia Iona che Giordano recepiscono la necessità dopo la guerra in un momento diverso anche diviso della società italiana di aprire le porte di queste istituzioni l'Ateneo si reggeva fino al 19 su 150 soci è proprio Giordano che decide di raddoppiarli e di portarli a 300 residenti intendo sono quelli che residono nella provincia di Venezia che è il numero che attualmente è ancora in vigore su questa linea era esattamente d'accordo anche Iona che ricepisce alcune delle direttive di Giordano e riguardo al nuovo statuto proprio il neopresidente così commentava nel 21 l'incremento del numero dei soci io non dubito di trarre i più liti auspici di questa corrente di linfa viva e sana entrata nella nostra compagine essa saprà sempre più legare il nostro Ateneo alla vita cittadina promuoverne il progresso attraverso la diffusione insistente e illuminata di ogni utile iniziativa ecco di questa rinascita Iona è sicuramente ampiamente interprete durante la sua presidenza entrano molte nuove professioni molti medici molti professionisti molti professori anche dei licei e delle scuole superiori entrano anche le due anime del mondo ebraico quella più vicina più conservatrice più vicina al fascismo i Sullam i Musatti uno dei due dopo che il padre Cesare lo era già stato l'inventore della psicanalisi italiana Ravà e quelli che invece erano più vicini a Iona e a Trentin alla democrazia sociale come Ifanion o Raffaello Levi quindi quale ateneo ereditava Iona era un ateneo dove molti discussioni venivano fatte e dove il tema dell'attualità era anche molto forte vi faccio qualche esempio nell'aprile del 21 si eleggono una serie di soci quasi tutti molti provengono da Trento da Trieste dall'Istria dalla Dalmazia cioè dalle nuove zone chiamavoli irredente si cerca anche a un certo punto di eleggere per acclamazione Gabriele D'Annunzio ma si pensa forse che non è il caso in quel momento e quindi non solo non viene acclamato ma non viene neanche fatto socio peraltro nel 22 si bloccò Antonio Fradeletto che doveva tenere in atenea una conferenza dal titolo del 20 settembre la questione romana a difesa degli interessi del gruppo di Volpi fautore o perlomeno favorevole al trattato di Rapallo invece bollato come ignominioso da alcuni nazionalisti guidati da Piero Foscheri perché smembrava a suo dire i vecchi domini della Serenissima e per impedire a Fradeletto di parlare vennero usati gli squadristi sulla porta e hanno fatto una sorta di picchetto in quegli anni 20 invece il dibattito sui problemi culturali è molto ampio all'Ateneo e vi partecipano esponenti di diversa collocazione culturale e politica da Orsi a Giulio Lorenzetti che noi ricordiamo per essere artefici di una famosissima guida una delle prime guide del novecento ma si parla spesso di questioni che oggi si sembrano quasi normali si parla per esempio del nuovo ponte che doveva essere costruito nel 22 c'è un dibattito su questo il ponte verrà costruito poi nel 32 dal fascismo il ponte dellittorio al rilancio del porto della nuova realtà di Marghera nel 23 ecco certamente l'Ateneo di Iona è proprio l'interprete di quella tradizione alla quale ci siamo in molti cercati di richiamare a nostra volta da una parte l'alta produzione e cito da Iona nuove creazioni nell'arte rivelazioni di verità nuove nella scienza strumento di arricchimento del sapere umano del suo patrimonio di bellezza e dall'altra la vita spirituale cittadina la divulgazione del sapere la divulgazione insomma anche attraverso una biblioteca circolante che Iona aveva pensato proprio per arrivare agli strati più bassi della popolazione quelli che non entravano sempre in Ateneo anche perché pensavano che non poterlo fare oppure oltre alle solite celebrazioni di tutti i consueti eroi veneziani da Marco Polo in su e nel terzo centenario della morte di Paolo Sarpi Iona e il consiglio decidono di apporre una targa al monumento che sta in campo Santa Fosca se voi girate dietro quella targa è ancora lì ma il monumento è stato eletto nel 92 e qui siamo quindi in un'altra delle ricorrenze il 15 gennaio del 23 alcuni soci ecclesiastici decidono di rassegnare le dimissioni ovviamente perché perché ancora nel 1923 Sarpi passava per essere stato un eretico amico di eretici e di aver intrattenuto rapporti con i luterani i valdesi ora chiaramente questa cosa apparve già al tempo risibile pretestuosa e i 5 dimissionari poi grazie alla ricucitura di di Iona due mesi dopo ritirarono per il bene della terra o ritirarono le dimissioni altro esempio di questa libertà culturale è l'invito nel 25 di un filosofo indiano Rabindranath Tagore che venne a Venezia e fece una conferenza una vivacità quindi quella dell'Ateneo di Iona che ebbe anche un endorsement particolarmente importante in Gino Damerini che certo non gli era vicino politicamente che però diceva scriveva nel Marzocco che l'Ateneo si è coraggiosamente evoluto e ha spallancato le porte del tempio alla città inutile sicuramente il professor Guidarelli lo sa meglio di me ma è qui che per esempio prendono le mosse il dibattito di Bordiga per creare lo Uav più volte Giovanni Bordiga aveva cercato di stimolare la discussione e più volte anche si discute per esempio dei restauri da fare a Venezia tanto che Angelo Fano aveva proposto una commissione titolata Amici della Casa che si prendesse a cuore il dibattito dei restauri in città Iona fece presente a Fano che non era forse compito dell'Ateneo ma del Comune questo tipo di incompiti e però ricorda anche che il Comune si era mosso a proposito dei discorsi che si facevano prima per trovare i fondi per un programma inerente all'allargamento e restauro dell'ospedale civile e che da questo punto di vista lui era molto contento quantomeno esempi ce ne potrebbero essere molti per esempio la creazione di commissioni che dovevano supportare l'autorità comunale nel dirimere alcuni grossi problemi della città sì sto concludendo vi dicevo prima della popolarizzazione un po' della cultura e della dimensione politica e scientifica della nostra istituzione chiaramente questo tipo di realtà risente molto anche della figura dei presidenti e dei suoi interpreti però evidentemente negli anni 20 Ion aveva colto questo tipo di necessità questo tipo di problema l'Ateneo non ha più scriveva l'Ateneo non ha più la sua filosofia e può ospitare nel suo grembo tutte le correnti del pensiero moderno la popolarizzazione fosse essa delle scienze delle lettere delle arti ha sempre mantenuto comunque quel carattere di elevatezza che si conviene a un istituto di alta tradizione continuano i corsi di storia veneta ne vengono aggiunti altri di carattere letterario storico scientifico e storia del costume della cultura del teatro da questo punto di vista Iona era davvero un intellettuale di ampissime vedute come vi ho detto poi Iona finisce il suo mandato e ritorna a di nuovo Giordano che nel frattempo aveva smesso di fare il sindaco tuttavia io vorrei chiudere con una considerazione postuma in fondo no? Sappiamo che che Iona si suicidò nel nel 43 e che poi venne ricordato dicevo prima da Battain nel 3 giugno del 45 si è sempre detto l'abbiamo già cercato di sfatare qualche anno fa proprio qui nell'occasione dell'anniversario delle leggi razziali che Iona si fosse suicidato per non dare non permettere non dover essere costretto di dare gli elenchi della comunità ebraica alla questura io ricordo bene qui l'intervento di Renata Segre sul quale sono d'accordo con un'aggiunta era inutile che Iona si suicidasse per questo la questura aveva ampiamente gli elenchi della comunità ebraica forse non li aveva aggiornati perché qualcuno era già fuggito ma certamente questi elenchi erano già presenti perché allora si suicida un presidente di una comunità ebraica che ha assunto la presidenza nel 40 proprio per cercare di stare più vicino ai suoi io penso che se fosse si sia non la paura diciamo ma nel senso di sconfitta forse lo ha tradito e lo ha costretto a questo gesto io penso che nel gesto di Iona c'è stato l'incapacità l'impossibilità di poter dare una mano ai suoi co-religionari alla sua comunità e dal punto di vista dell'intellettuale il senso della sconfitta che voleva con un gesto evidente marcare anche creando uno shock nella società nella società veneziana e sicuramente qualche risultato lo ottenne perché alcuni ebrei che erano stati arrestati pochi giorni prima vennero liberati e per tre mesi se non altro e la la retata che era pronta nei giorni immediatamente successivi venne rinviata dando modo in qualche caso anche a qualcuno di salvarsi grazie grazie sono delle domande abbiamo qualche minuto prima poi della cerimonia del conferimento del premio se non ci sono domande uno vorrei farla io cioè per essere sul presente cioè l'ospedale è anche una delle maggiori istituzioni scientifiche di venezia uno dei luoghi in cui si produce più scienza e come si entra oggi a far parte dell'ateneo veneto dell'istituto veneto beh allora cioè per quello che riguarda l'ateneo perché la constatazione è rispetto all'assenza di medici veneziani attualmente diciamo nella misura che abbiamo conosciuto nel passato non nella misura allora poi magari vediamo l'istituto che in questo è più accademico ed è più penso abbia un'altra struttura si diventa socio dell'ateneo non perché sia il miglior primario o il miglior professore di storia ma perché coniughi la diffusione della cultura alla tua professione per i migliori c'è semmai la cattedra universitaria vorrei dire rotari da un certo punto di vista nell'ateneo diventi socio su proposta di due altri già soci per cooptazione e poi per voto da parte dell'assemblea perché tu in qualche modo dimostri di aver messo insieme le due cose dopo è chiaro che sono molto spesso delle operazioni anche di potere è chiaro che il primario abbiamo citato due primari che negli due o tre anni diventano soci perché il primario ha sicuramente più possibilità non faccio nessuna offesa lo dico come un dato di fatto il primario ha delle possibilità maggiori di porsi come un professore universitario ha sicuramente più possibilità di porsi rispetto a un professore di scuola una scuola inferiore quindi questo è il ragionamento di fondo poi bisogna anche avere qualche come dire qualche sorta di contatto qualche contatto qualche modo quindi c'è una proposta che viene vagliata dal consiglio due soci attuali fanno di candidatura di possibili se sono soci residenti devono restare nei 300 e poi diciamo c'è un organismo dell'Ateneo in questo caso che vaglia la candidatura e che poi la propone all'assemblea nel caso dell'istituto allora tecnicamente più o meno il funzionamento è lo stesso ogni anno il consiglio di presidenza stabilisce il numero di posti vacanti da riempire nel corso delle elezioni che possono essere relativi a entrambe le classi la classe di scienze morali e la classe di scienze fisiche riguardano la categoria diciamo dei membri effettivi che sono quelli i veri componenti dell'assemblea dell'istituto o quelle che hanno potere poi decisionale e leggono le cariche e approvano i bilanci tanto per capirci o nel numero dei soci corrispondenti che è il grado possiamo dire di accesso all'istituto una volta comunicato ai membri effettivi il numero di posti vacanti si attua una un lavoro anche di comunicazione interna per individuare le persone che sono più indicate per ricoprire per far convergere i voti in assemblea poi c'è un meccanismo di una prima discussione di scrematura delle candidature poi si arriva alla vera e propria elezione in adunanza solitamente attorno in primavera attorno a marzo una volta giunti arrivati all'elezione le elezioni sono confermate con decreto del ministero dei beni culturali abbiamo soddisfatto qualche curiosità sul tema ci sono interventi prego buonasera no solo una osservazione molto a margine queste due relazioni che ho apprezzato molto vi rifaccio in particolare la polemica tra vi parlava il dottor L'Urbani tra il problema di anti su questa differenza tra l'accademia e la pratica medica che poi in realtà viene superata dalla realtà dei fatti come ci diceva i medici poi entravano numerosi a far parte dell'istituto e poi anche ho visto dell'Ateneo bene e ringrazio anche di quel cenno fatto il professor Dalco che è un nome caro probabilmente a molti in questa sala ma volevo solo ricordare il grande prestigio che a Venezia i primari medici investivano in città i vari dipartimenti erano ricordati non come oggi si fa ma si ricordava col nome del primario anche perché erano delle figure carismatiche che restavano in carica per lunghi anni e caratterizzavano proprio anche un'epoca e a te lo aspetto come veniva così sottolineato dalla relazione del professor Gotardi proprio questo anche ruolo civile dei medici in città in quell'epoca per il grande prestigio culturale ma anche proprio per la forza morale che la professione medica sapeva infondere in città quindi ecco un'osservazione che mi è venuta spontanea dopo aver sentito le loro parole grazie bene beh devo ricordare che quanto diremo tra oggi e domani in questa sede sarà oggetto di una pubblicazione saranno realizzati gli atti e questa è una cosa importante perché poi nel tempo come sappiamo i documenti scritti sono quelli che restano siete tutti invitati poi a un incontro conviviale che seguirà la conclusione dei lavori nella caffetteria qui dell'istituto di un incontro di un incontro Grazie a tutti.